guardate dove siamo siamo in grecia ragazzi potete notare il panorama che abbiamo in questo momento che è fighissimo zona praticamente altamente montuosa e con tantissimo mare vi faccio questo video perché volevo farvi vedere una cosa guardate allora siamo a bordo di un quad che è una bestia è un 350 di cilindrata fa degli scoppietti ragazzi va come una bestia e vi faccio vedere un tratto che stiamo per fare adesso in questo momento che in questo momento c'è la mia ragazza che sta facendo da cameraman e niente vi faccio vedere una tratta e dopo se trovo anche uno spazio dove fare un bel 360 vi faccio vedere che bolide che è questo guardate e che strade ragazzi e niente ragazzi vi saluto dalla grecia e ci vediamo prossimamente con il canale chiaramente continueremo tutti i nostri video adesso appena rientrerò dalle ferie ci metteremo sotto e soprattutto ricordatevi che a breve esce il prossimo uncharted e saremo lì pronti per farlo tutti i giorni insieme anche a moden combat e tutti gli altri giochi che a voi piacciono tanto niente ragazzi tanti saluti e buon ferragosto a tutti ciao a tutti complimenti hai terminato la visione da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta